Sto disposto per il grande spettacolo, i miei spettori e il punto. Dai Giulia, è bellissima, ci siamo andati vicini, è solo questa settimana che non è stata fatta per noi, però ce l'abbiamo fatta. Siamo sposati, siamo felici, è stata una giornata bellissima, io sono l'ottima di essere qua con tutti voi. Organizzare questo matrimonio è stato semplicissimo, soprattutto nell'ultima settimana. Però, adesso nonostante questo, è stato veramente confortante, è stato bello sentire la presenza di tutti attorno a noi. Sì, sono molto troppo agitato. Eccola, ecco, dobbiamo fare così e dopo torniamo. Arrivederci dopo la sposa probabilmente. Grazie di cuore. Per cui noi speriamo, viste le premesse, di avervi vicino per molti anni ancora, per riuscire a trasmettervi la nostra gioia e perché possiate in ogni modo testimoniare sempre il nostro amore. Ho visto tutto nero, però oggi che vi vedo tutti, sono felice. Grazie! 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 Grazie!